Ancora una serata di tensione in piazza della Badia, nel cuore del centro storico Aretino, dove si è consumata una violenta rissa. Qui gli animi si sono accesi attorno alle due di notte, quando due gruppi contrapposti si sono affrontati utilizzando anche bottiglie e cartelli stradali. A chiamare il 112 sono stati i residenti allarmati. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Nel frattempo due giovani si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo con lievi ferite, causate probabilmente da una bottiglia di vetro proprio durante il tafferuglio. Gli agenti delle volanti, dopo un capillare lavoro di ricostruzione ed aver ascoltato le persone coinvolte, oltre ad aver visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza cittadino, hanno denunciato in Stato di Libertà per il reato di rissa i quattro coinvolti ed un altro soggetto al momento ancora ignoto. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta una calda estate, chiosa ha mareggiato un cittadino. Ieri sera infatti era la prima sera della maxisola pedonale. In questa zona ormai da anni i residenti e commercianti lamentano pesanti disagi, dai rumori molesti al degrado agli episodi di inciviltà.